Buongiorno da vedo consigli di lettura oggi prima di fiondarci nelle news della giornata vi parlo di un articolo che vi consiglio di andare a leggere che si chiama Nei font c'è un monopolio, un articolo che trovate su Il Post che è molto interessante perché racconta la storia del monopolio di fatto del mercato dei font dell'azienda statunitense Monotype tra l'altro i font usati al maschile, non so se ti piace questa cosa a me piace fin lì, perché mi piace di più il femminile, la font perché mi ricorda un po' un nobile francese, il signor Gustave Lafont così mi fa più sorridere, quindi è più carina il francese Lafont, comunque i font sono appunto oggi praticamente soltanto di questa azienda se voi comprate o utilizzate un font è molto molto probabile che lo stiate comprando da Monotype perché negli anni, da quando è stata fondata nell'ottocento si è espansa e ha acquistato praticamente tutti i concorrenti oggi non rimangono più, tant'è che da analisi di mercato oggi non ci sono aziende che Monotype potrebbero avere l'interesse ad acquisire tant'è che è ormai praticamente l'unica disponibile ed è interessante capire e leggere come si è evoluto questo mercato io non mi ero mai posto il problema di chi fossero le font bene sono praticamente tutti di Monotype da Times New Roman che è il suo cavallo di battaglia, il primo grande successo di Monotype a poi Helvetica che acquistò negli anni 2000 che era un suo grosso concorrente invece ora è parte del suo portfoglio ebbene è interessante leggere anche questa peraltro curiosità finale sapete che da cosa deriva il termine font forse lo sapete o lo avete intuito deriva dal francesismo di font che era usato negli anni 50 in Italia font con la e finale fonte perché appunto in francese la fonderia si chiama fondre e poi font ha la stessa radice e la fonderia era proprio il luogo dove venivano create queste matrici di metallo gigantesche dove venivano creati poi i caratteri per la stampa caratteri mobili e quindi da lì da fondre, fonderia, poi deriva l'inglese font che poi è stato appunto utilizzato dappertutto italianizzato anche e ora si usa font che deriva dall'inglese ma che ha la stessa radice del francese così forse non ve ne frega una mazza di questa roba ma l'ho buttata lì perché mi è tornato in mente ed ora andiamo con le news del giorno allora oggi è il giorno in cui dobbiamo parlare di BAN perché come annunciavo qualche settimana fa quando abbiamo parlato della release 0.8 di BAN non so se vi ricordate ma era già stata prevista e annunciata la release stable 1.0 di BAN in questi giorni e così è stato l'8 settembre quindi qualche giorno fa Jared Sumner ha pubblicato l'articolo sul blog ufficiale di BAN.sh BAN.sh dove appunto annuncia la release 1.0 quindi 1.0 stable diciamo la prima grande release stabile la prima milestone di BAN.sh quindi vado a vedere sul blog ufficiale scorriamo un po' quali sono le caratteristiche di BAN allora per riassumere per chi non fosse aggiornato BAN è fondamentalmente un runtime JavaScript cioè un replacement per Node.js quindi possiamo considerarlo alla stregua di un drop in replacement per Node.js potete far girare dei file JavaScript, dei software JavaScript, delle applicazioni JavaScript sul server, quindi su una macchina con BAN come fareste con Node.js quindi lanciando BAN al posto di Node.js che differenze ci sono con Node.js? BAN è scritto in ZIG che è un linguaggio di programmazione che possiamo considerare anche lì un replacement di CI quindi abbastanza a basso livello e questo fa sì che poi le sue performance siano molto elevate quindi sia molto ottimizzato e quindi questa è una delle ragioni della sua velocità un'altra delle ragioni è che ha deciso di puntare su un altro motore di rendering invece di V8, 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 insomma il motore che è alla base di Chromium e anche di Node.js BAN utilizza JavaScript Core che invece è il motore alla base di WebKit quindi di Safari che è più ottimizzato, insomma ha dei problemi di compatibilità però è più veloce o più ottimizzato quantomeno nel tempo di startup rispetto a V8 ci sono ovviamente altre differenze però non scendiamo così nel tecnico per comparare questi due motori però sappiate che a livello basso, diciamo a livello tecnico le differenze fondamentali sono che BAN rispetto a Node.js sono che BAN è scritto in ZIG e usa JSC quindi JavaScript Core come motore di rendering quindi vediamo un po' che cosa dice il blog post dice naturalmente che BAN è un tool all-in-one per far girare applicazioni di JavaScript ma anche per fare build, test e debug di file JavaScript TypeScript e poi vediamo perché perché in realtà non è solo un runtime ecco, fa tante altre cose la cosa, ecco forse una delle cose più incredibili del lavoro di sviluppo dietro a BAN è che sono riuscite a creare un sacco di cose in realtà un sacco di tool cioè vanno a fare il replacement vanno a rimpiazzare un sacco di tool per JavaScript che conosciamo e che utilizziamo tutto in uno, tutto in un unico eseguibile quindi iniziamo dalle motivazioni che portano alla creazione di BAN dice Gareth Sumner o comunque gli autori di questo articolo che da quando Node.js era stato lanciato 14 anni fa si sono susseguiti una serie di modifiche e una serie di layer su layer che l'hanno portato ad essere un pochino più pesantino ecco e quindi questo runtime, questo tool è diventato lento e complesso e quindi l'obiettivo di BAN è di eliminare le lentezze e le complessità però senza eliminare tutto quello che ha reso JavaScript grande quindi tutte le tue librerie, i tuoi framework preferiti dovrebbero continuare a lavorare ma semplicemente ci sono un sacco di tool che puoi rimpiazzare con BAN quindi non devi dimenticare quello che ti ha reso possibile utilizzare JavaScript in tutti questi anni ma rimpiazzare tutti i tuoi tool con un unico tool che è BAN infatti con BAN puoi rimpiazzare Node.js puoi rimpiazzare i transpiler quindi TSC, Babel, TSNode ecco BAN può far girare file JS come file TS o come CJS, MJS, JSX e TSX tutto questo nativamente senza dover ricorrere a un transpiler esterno per convertire tutto in JavaScript come appunto Babel non solo è anche un bundler quindi il lavoro che fa YesBuild o il lavoro che fa Webpack lo fa anche BAN quindi è in grado di creare appunto delle build, dei bundle e anche minificati del codice ultime due cose incredibili fa da package manager quindi è un rimpiazzamento per NPM fa lo stesso lavoro di NPM ma molto più velocemente ed è anche una libreria di test 100% compatibile con Jest cioè vuol dire che i file con i test e le API scritte per Jest sono supportate da BAN potete farli girare con BAN tra l'altro supporta lo snapshot testing i mock insomma tutto questo dentro questa applicazione quindi andiamo a analizzare uno per uno questi tool come runtime BAN è un dicevamo un replacement per Node.js quindi dice il blog ufficiale le applicazioni Node.js esistenti e i pacchetti NPM just work funzionano 100% in BAN e qui vengono fuori i primi problemini poi li vediamo perché in realtà la community di programmatore di Javascript ha un po' storto il naso con queste affermazioni roboanti di compatibilità 100% perché poi molti hanno fatto notare che non è così quindi molte librerie anche molto utilizzate non sono in realtà compatibili con BAN ma poi lo vediamo poi supporta nativamente TypeScript e JSX è compatibile con i moduli quindi gli ESM gli ECMAScript modules e Common JS quindi nativamente è possibile scrivere nello stesso file sia import che require ecco per andare a stringere che comunque questa è anche una cosa piuttosto interessante per chi si è mai scontrato con il dramma di dover gestire i moduli e Common JS ecco poter gestire questa roba abbastanza senza pensieri è piuttosto confortante ma questa è una bella feature poi abbiamo le web API quindi c'è il supporto per le API web standard quindi fetch, request, responsible socket ecco sono state implementate in BAN quindi sono compatibili non c'è scritto in realtà quante di queste web standard API sono state implementate forse tutte non si sa comunque poi c'è lot reloading ecco poi c'è un supporto ai plugin ci sono le API native di BAN scusate che anche questa è piuttosto interessante perché implementa alcune API native per esempio quelle per leggere i file potete accedere all'oggetto globale BAN e poi fare punto file e con questo fare operazioni sui file che sono anche qui scritte con delle system call piuttosto veloce quindi sono effettivamente performanti quindi avete una serie di API come file, write, serve ecco serve è serve per appunto creare un web server quindi quello che fareste con non so express o fastify nella loro base ecco lo fate con BAN.serve avete un server HTTP a cui tra l'altro potete configurare alcune opzioni per esempio con TLS e anche inserire i web socket per esempio se volete un web server che supporta i web socket nella lista di opzioni di server gli date web socket e da lì nativamente avete un server che supporta i web socket un'altra cosa interessante è che BAN supporta nativamente SQLite altre cose package manager package manager abbiamo detto è un replacement per NPM o YARN in BAN ed è molto veloce quindi con i comandi che vi aspettereste BAN install BAN add BAN remove insomma potete gestire le vostre librerie e questo tool lo potete utilizzare già in progetti Node o Dino per esempio senza dover avere un progetto compilato o rannato da BAN se avete un progetto Node e volete un package manager molto più veloce potreste utilizzare il package manager di BAN ecco al posto di NPM o di YARN insomma rimpiazzare NPM o YARN con BAN per avere un po' di performance improvement nell'installazione di pacchetti poi si parla del test runner BAN è compatibile con Jest quindi con i file di Jest con le librerie di Jest sostituendo a Jest BAN si riescono a far girare i test con una velocità anche qua migliorata quindi ci sono delle comparazioni anche con VTEST ma anche con TSGEST e Babel insomma delle comparazioni che faranno vedere quanto BAN è più veloce di questi test runner e va bene poi BAN è un bundler quindi potete sostituire i vostri tool di bundling come ISBuild e Webpack con BAN tra l'altro BAN è abbastanza ispirato a ISBuild quindi anche le sue API sono compatibili con quelle di ISBuild quindi tra l'altro anche i plugin creati per ISBuild dovrebbero essere compatibili con BAN ultima cosa BAN è compatibile o almeno ha un inizio di compatibilità con Windows al momento BAN potete farlo girare su Linux e Mac OS naturalmente ma per farlo girare su Windows dovreste utilizzare WSL quindi Windows Subsystem for Linux ma da questa release c'è un iniziale supporto per BAN Windows nativo al momento soltanto il Runtime quindi non ci sono Package Manager Test Runner e Bundler ma c'è il Runtime che inizia quindi ad avere una sua forma una sua compatibilità con Windows che anche qua è una cosa da menzionare allora prima di concludere il discorso BAN volevo appunto parlare delle risposte di parte della community JavaScript e Node ai claim appunto agli annunci di Jared Sammler e del team soprattutto sulle performance di BAN e in particolare vi prendo l'articolo apparso sul blog di Matteo Collina sapete storico mantener di Node.js e creatore di Fastify e di altre librerie molto utilizzate molto conosciute quindi uno che conosce molto bene l'ecosistema Node ma anche come funziona a livello politico la decisione di puntare su un'affice piuttosto che un'altra che sono decisioni importanti che riguardano tutto un ecosistema e tutta una compatibilità con un enorme mondo di librerie e di software ebbene ha scritto la sua sul suo blog un blog post dell'11 settembre che si intitola My Thoughts on BAN and Other Adventures quindi lo trovate sul suo blog e la prima parte riguarda appunto BAN quindi lui dice vi vado a leggere mi piace molto quello che Jared Sammler sta costruendo con BAN ma sono un po' frustrato dai claim di compatibilità dai claim quindi dagli annunci dagli annunci di compatibilità con OJS nella mia esperienza non è un replacement drop-in e differiscono molti dettagli interni questo risulta in tante issue random sui miei repo che richiedono poi fix alla incompatibilità con BAN mentre che le persone le stanno provando quindi ci sono un sacco di persone che provano librerie mantenute da Matteo Collina con BAN queste non funzionano e quindi aprono delle issue a Matteo Collina perché appunto fixi queste incompatibilità continuo con questo paragrafo avrei preferito che loro quindi il team di BAN avessero preferito aspettare a raggiungere la 1.0 dopo aver raggiunto appunto una più piena compatibilità con l'ecosistema e poi vado ad analizzare perché BAN è più veloce di NoJS e appunto va a scrivere tre ragioni fondamentali la prima è che NoJS non ha budget e c'è un piccolo team che mantiene NPM quindi la maggior parte degli investimenti sono per aggiungere delle feature delle capabilities per rendere le cose più sicure non per renderle più veloci perché renderle più veloci non porta denaro a nessuno certamente poi dice non ai cloud provider e poi secondo punto BAN non si interessa della compatibilità backward quindi compatibilità con le versioni più vecchie delle librerie dell'ecosistema e questo lo fa con una consistente porzione dell'ecosistema delle librerie su NPM quindi poi prosegue le release di NoJS sono fatte anche in prospettiva di proteggere l'ecosistema che si è creato attorno a NoJS infine dice Matteo Collina io credo negli open standard e nella open governance quindi il runtime e le infrastrutture sono migliori in questa forma e poi fa un riferimento al terraforma fiasco così lo definisce noi lo conosciamo bene sta parlando naturalmente del fork di terraform open tf prosegue Matteo BAN non supporta attualmente Pino e Fastify che sono due librerie popolari create proprio da Matteo e sono dei moduli molto utilizzati che hanno un grosso impatto sull'ecosistema sono anche dipendenze di tanti altri moduli ecco comunque infatti poi dice una risposta su github a questi issue di incompatibilità con questi moduli è che insomma alla fine ban non implementa tutte le api di node.js e non è un replacement drop in completo per node.js a differenza di quello che si è detto quindi diciamo che allora forse c'è un pelo di marketing ingannevole o comunque si esagera un po' nel definire ban un drop in 100% per node inoltre la velocità di ban install ha un costo prosegue l'articolo è un costo considerevole nella developer experience infatti npm pnpm e yarn controllano se c'è una nuova versione disponibile di un pacchetto quando si va ad installare e fanno il fetch dal registry questo per default a meno che per esempio si vada a specificare la flag meno meno prefer offline ecco e in questo modo si ottiene lo stesso comportamento che ha ban cioè si va a prendere la versione locale l'ultima versione locale di un pacchetto senza fare il fetch e quindi che comporta naturalmente anche lo spacchettamento di dati la copia sul file system eccetera no invece con questo comportamento si va a prendere l'ultima versione della libreria disponibile localmente e si utilizza quello e utilizzando questo approccio ecco che i benchmark cambiano considerevolmente per esempio nel suo sistema ha fatto un benchmark con pnpm con la flag prefer offline e ha ottenuto una differenza di 600 millisecondi tra un comando e l'altro e ovviamente questa è una differenza una differenza che esiste ma è sufficientemente trascurabile comunque è un gap che può essere colmato nel tempo tra l'altro conclude diciamo questa parte di articolo che vi invito poi a leggere dall'anno scorso Node.js ha ufficialmente lanciato un team di performance che va a intervenire e lavorare per migliorare le performance di Node.js tra l'altro consiglia questo articolo vi consiglio anch'io di andare a leggere un post di Rafael Gonzaga che fa appunto parte del performance team di Node che si intitola State of Node.js performance 2023 va a fare un po' un'anasi di tutto questo lavoro che ci sta facendo sulle performance di Node.js quindi diciamo che Node.js sta recuperando terreno per quanto riguarda le performance ma lo sta facendo con un occhio di riguardo alla compatibilità e alla sicurezza di tutto l'ecosistema cosa che BAN invece può permettersi di non fare perché naturalmente non ha bisogno di essere compatibile con anni e anni di librerie NPM e versioni più vecchie di moduli può concentrarsi soltanto sulle LTS diciamo oppure sulle latest ancora meglio che sono uscite in questi anni allora ultimissimo in chiusura soltanto per dire che a corollare di quello che dicevamo qualche puntata fa sulle restrizioni al mercato cinese cioè le compagnie americane che creano dei chip non possono vendere in Cina le versioni più potenti del loro chip perché ci sono appunto delle regole create dall'amministrazione Biden che vanno a mettere dei tetti alla potenza di chip esportati sul mercato cinese e su quello russo naturalmente per le sanzioni ebbene completo questo dicendo che qualche giorno fa è uscita anche una news che riguarda nuove regolamentazioni nuove restrizioni sulle esportazioni in Medio Oriente quindi anche in Medio Oriente adesso entra apparentemente a far parte di quel novero di paesi a cui non è possibile esportare chip potenti quindi sia Nvidia che AMD hanno dichiarato appunto di avere queste restrizioni non possono vendere in Medio Oriente i chip che hanno la massima loro potenza quindi si aggiungono queste restrizioni quelle già in vigore per Cina e Russia e si applicano dice Nvidia a un sotto insieme dei chip di alta gamma di Nvidia quindi la stessa cosa poi di AMD e se vi interessa approfondire questo tema vi invito a leggere su The Register lo stesso diciamo articolo quindi sulle regioni del Medio Oriente che applicheranno o che si verranno applicate queste restrizioni che è molto più dettagliato e va a spiegarvi un po' tutte le motivazioni nella storia dietro a questi ban dietro a queste regole e si spiegano un po' anche le strategie di Nvidia e di AMD per depotenziare questi chip e venderli comunque mantenendo sia la loro quota di mercato che la possibilità di vendere in paesi dove ci sono delle restrizioni e come avete visto ci sono delle restrizioni anche sul rilascio di puntate del Buongiornissimo insomma non riesco a essere costante nella pubblicazione e fa salto dei giorni ma succederà sempre così non riesco ogni giorno a essere qui purtroppo è anche vero che non ci sono ogni giorno delle super notizie da condividere e commentare però insomma mi piacerebbe esserci di più spero di riuscire a farlo grazie comunque a tutti quelli che mi seguono che trovano questa roba interessante magari commentatemi se c'è qualche cosa che posso migliorare e prima di lasciarvi una notiziona stasera sarò live con Giuseppe Funicello quindi cercate il canale YouTube di Giuppi per andarmi a vedere in live con Giuseppe chiacchiereremo di un po' di cose varie in realtà quindi se vi piace passare una seratina in compagnia con me e Giuseppe ecco siamo lì sul suo canale YouTube basta era tutto quello che volevo dirvi quindi vi saluto e vi do appuntamentone alla prossima puntatona del Buongiornissimo ciao